E questa è Romeo e Juliet di Lou Reed dal disco New York, uscito il 10 gennaio del 1989 per Psy Records. Sono le 10.42 minuti e 38 secondi e siamo alla seconda parte di almeno due pagine al giorno che dedichiamo alle interviste della nostra rassegna stampa culturale quotidiana. Lo facciamo con un ospite che insomma sono veramente molto contento di poter ospitare all'interno della nostra trasmissione su RBA. Buongiorno a Carlo Bordone in collegamento con noi. Ciao Carlo. Ciao Francesco. Buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora Carlo intanto grazie per aver accettato il nostro invito per parlare di un libro davvero importante diciamo sia per la mole che per i contenuti. Intanto per chi ci guarda anche sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino Cuneo e Asti e anche sul nostro sito rba.it questa è la copertina del libro Lou Reed il re di New York pubblicato di Will or Miss pubblicato da Minimum Fax il 13 ottobre scorso. Perché coinvolgo Carlo Bordone giornalista musicale per Rumore, per Rolling Stone insomma intorno a questi contenuti. Perché a parte insomma ne ha scritto anche in passato sulla rivista Rumore sia per quanto riguarda il Velvet Underground ma anche per Lou Reed ma anche per diciamo la capacità di approfondimento insomma rispetto alla figura immagino insomma di Lou Reed soprattutto. Allora Carlo partiamo da questo insomma tu ne hai parlato anche diciamo sui tuoi canali social qualche settimana fa. Questo è un libro che insomma Rumore definisce non certo la biografia ufficiale di Lou Reed però insomma il Washington Post per esempio ha scritto questo quando è uscito. Non dovrete leggere altro su Lou Reed se non questa biografia che è una biografia monumentale in cui si racconta diciamo molto anche dell'oscurità di Lou Reed. Insomma qual è intanto per partire diciamo il tuo punto di vista rispetto a questa biografia su Lou Reed il re di New York. Carlo? Sì ma sì non è una biografia ufficiale nel senso che non ecco non ci sono ecco l'autore Will Hermes o Hermes adesso non so bene come si pronuncia comunque chiamiamo Will Hermes non è andato per esempio a intervistare Laurie Anderson, John Cale, Maureen Tucker, le persone diciamo più vicine a Lou Reed ancora in vita quindi in questo senso non credo sia ufficiale però lui ha avuto per esempio accesso alla corrispondenza di Lou Reed c'è una credo al qualche museo di New York c'è una un'area uno spazio dedicato appunto alla Lou Reed ha potuto leggere lettere familiari lettere dei fan e ai fan e cose di questo genere non è neanche la prima ovviamente biografia di Lou Reed ne ricordo un'altra per esempio di Victor Bocris abbastanza celebre però quello che impressiona di questo libro è la capacità dell'autore di davvero di tirare le fila cioè io credo che lui si sia letto qualunque riga pubblicata su Lou Reed, sui Velvet Underground e su quel mondo che comunque gli stava intorno è di una esaustività davvero ammirevole, davvero impressionante e racconta in modo dire assolutamente completo la vita, la carriera, la storia, la musica di Lou Reed se ha un difetto, ma è un difetto comune a qualunque biografia di qualunque grande autore, autrice che ha avuto una storia di lunga decenni e decenni è una biografia di 730-740 pagine 771 poi c'è la bibliografia, la discografia eccetera diciamo la trattazione intorno alle 750 pagine la pagina 470 siamo al 75 capisci cosa intendo? alla fine comunque per quanto venga esaminato gli ultimi anni della vita di Lou Reed le ultime cose, anche quelle più criticate per esempio il disco con i Metallica o i dischi che faceva per esempio uno degli ultimi album di Lou Reed era musica per meditazione lui si era appassionato al Tai Chi al discipline orientali eccetera se ne parla, vengono esaminate però comunque inevitabilmente gli ultimi 30 anni di vita e di carriera di un grande artista come Lou Reed alla fine scorrono in modo molto veloce mentre invece evidentemente sulla prima parte in particolare sulla parte che riguarda il Velvet Underground e poi i primi anni 70 l'incontro con Bowie eccetera ci si dilunga forse anche giustamente ripeto inevitabilmente però è l'unico difetto tra virgolette che si può imputare a questa biografia che tra l'altro nell'edizione italiana questo diciamolo perché è sempre importante non succede spesso e anche molto ben tradotta il libro esce per Minimum Fax è stata tradotta da Paola De Angelis e Chiara Veltri e una volta tanto fa piacere non doversi imbattere in refusi sfondoni, errori gruppi femminili spacciati per maschili e viceversa e cose di questo genere sì sì diciamo pericolo scampato insomma infatti anche da questo punto di vista il lavoro è davvero molto molto ben curato tu dicevi insomma che insomma si prende buona parte del libro il racconto diciamo anche consentimi insomma degli anni scuri perché insomma va veramente al cuore diciamo di quella vicenda di quella fase della vita di Lou Reed insomma anche la vicenda familiare diciamo viene raccontata in maniera molto molto approfondita perché insomma si racconta anche quella New York che è la New York sporca diciamo insomma non è una New York ricca di lustrini e anche se insomma fino a pagina 500 si raccontano diciamo si arriva agli anni 70 però davvero si scandaglia in maniera molto molto approfondita la figura di un artista assolutamente poi anche contraddittorio se vogliamo e anche non dolce di sale come direbbe una persona di mia conoscenza insomma era davvero complesso diciamo avere a che fare con un personaggio come Lou Reed no Carlo? Sì per l'altro pur avendo io e me ormai a una certa età ascoltando Lou Reed o i Velvet insomma da decenni ormai avendo letto parecchie cose cioè in realtà non immaginavo quanto fosse oscuro oscura per certi versi la figura di Lou Reed quanto si usa sempre questo termine maledetto che ormai fosse anche un po' abusato ma in effetti lui ha avuto una vita e dei comportamenti insomma vicende personali che effettivamente sono abbastanza imparagonabili rispetto quasi a qualunque altro suo contemporaneo certo c'è anche questa storia familiare ci sono molte leggende sulla vita di Lou Reed in molti casi propagate da lui e non così vere poi alla fine una delle principali è il fatto che da giovane da ragazzo fosse stato sottoposto a elettroshock perché i genitori volevano curare la sua omosessualità latente allora Will Hermes fa giustamente rende conto di questa di questa vicenda ma sente un po' tutte le campane tra cui anche la sorella di Lou Reed che nega assolutamente che i genitori avessero questo soprattutto il padre non avesse questo rapporto violento, dittatoriale con il figlio era tutt'altro in realtà c'è anche una canzone famosa di Lou Reed che si chiama Kill Your Sons che racconta appunto di questa terapia di elettroshock a cui venne effettivamente sottoposto ma era la fine degli anni 50 purtroppo in quel periodo si dava si pensava che queste terapie questi metodi avessero qualcosa di scientifico e molti ci cascavano Lou Reed evidentemente aveva all'epoca dei problemi psicologici di qualche tipo e i suoi genitori sbagliando pensarono di risolverla in quel modo e quindi bisogna sempre un po' districarsi tra leggenda, autonarrazione che Lou Reed spesso anche contraddicendosi ha fatto su se stesso nel corso dei decenni e in questo senso credo che l'opera, la trattazione di Will Hermes sia neappuntabile cioè sia molto completa molto equilibrata molto neutra senti Carlo leggevo anche un articolo di Stefano Pistolini a proposito dell'uscita di questo libro a settembre dell'anno scorso lui dice Pistolini si racconta il baratro prima del successo evidentemente alla base di questo articolo di Stefano Pistolini c'è questo assunto insomma in realtà lui attraversa questo inferno ricco anche di fallimenti discografici possiamo dire dal punto di vista diciamo del mercato se vogliamo ma avendo però un unico obiettivo diciamo che è il filo rosso anche in questa narrazione del libro di Hermes insomma il fatto che a ogni disco lui spera diciamo di fare il salto ma non riesce mai fino ad un certo punto diciamo fino agli anni 80 con insomma New York insomma immagino che sia il disco che gli dà un grande successo se vogliamo e gli apre le porte poi del successo globale però alla base c'è sempre la ricerca del successo sia personale che anche artistico non pensi che possa essere questa diciamo anche un po' la narrazione della vita di Lurito ovviamente per quanto può valere questa considerazione sì ma non bisogna dimenticare che certo Lurito è un nome leggendario però non è non è mai stato in tutta la sua carriera un artista che che vendeva così tanto non aveva la popolarità universale non era il Queen non era neanche David Bowie a metà degli anni 70 anche per questioni di contratti così un po' strani problemi legali eccetera qui già dopo per esempio dopo Transformer che è stato forse il suo album più di successo all'inizio degli anni 70 lui era in bancarotta era sommerso in debiti e poi sì c'era lui ambiva era lui era nato e si era formato con la cultura pop dei primi anni 60 per lui il successo era qualcosa comunque a cui ambiva e non l'ha mai raggiunto davvero completamente è diventato sicuramente uno dei nomi più mitici e leggendari della storia del rock ma a livello di grande popolarità di popolarità universale non è sicuramente paragonabile ai Beatles ai Rolling Stones Bowie e altri personaggi simili e questo è un po' sviluppativa con lo stesso David Bowie sappiamo tutti la simbiosi che c'è stata tra i due non si sono parlati per 15 anni dalla fine degli anni 70 a metà degli anni 90 perché comunque in Lou Reed c'era questa tensione tra quello che effettivamente era e gli obiettivi che i risultati che poi raggiungeva in termini di appunto di vendita di dischi di popolarità ancora negli anni 80 per esempio Urid andava in tour ma non è che suonasse davanti a platee oceaniche diciamo diciamo c'è una mani in club ecco il leader dei Velvet Underground negli anni 80 cioè i Velvet Underground erano la leggenda per Antonomasia e Lou Reed suonava sì suonavano i Palasport ma insomma non era un nome che richiamava decine e decine di migliaia di persone Lou Reed come definivi tu i Velvet Underground in un numero di rumore del 2021 insomma il punk l'estetica punk dieci anni prima del punk l'avanguardia la coolness impossibile mi era rimasto impressa questa definizione che hai dato allora Carlo intanto siamo veramente quasi già in coda questo quarto d'ora è volato però ti faccio una domanda impossibile no 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 ma insomma ti starei ad ascoltare fino a domani questo lo sai però insomma volevo chiederti ti faccio una domanda impossibile per chiudere ovviamente per i giovanissimi tra chi ci ascolta insomma che insomma volessero anche un po' approcciarsi diciamo all'arte alla musica non dimentichiamo poi tutto il versante della scrittura che c'è dentro il libro di Hermes insomma da dove bisognerebbe partire per provare diciamo a trovare una connessione per quanto è possibile con l'arte di Luride Carlo discograficamente sì sì partirei inevitabilmente dai Velvet Underground cioè non quello serve per trovare una connessione un po' con tutto la storia della musica rock del punk eccetera e poi non so forse album come Transformer sicuramente album come New York a mio parere è in assoluto il disco più bello di Luride però non lo so è strano i giovanissimi hanno la più pallida idea di chi sia Luride ma infatti è una domanda anche un po' retorica Carlo devo dirti la verità ma in questi giorni sappiamo c'è il film di Vendors Perfect Days dove c'è la canzone Perfect Day che tutti noi per noi che abbiamo una certa età è legata anche soprattutto per esempio al a Trenspotting c'è il Trenspotting c'è la scena la famosa ma io per fare la prova io insegno in una in un studio di design grafica a un'università ragazzi di 20 anni su 27 persone nessuno non solo non ha mai visto Trenspotting ma non ha neanche senso nominare quindi figurati Luride è la missione impossibile difficile che tu vabbè adesso la musica si ascolta più accendendo la radio la si ascolta su Spotify e in streaming e le playlist eccetera è abbastanza difficile che becchi per caso o per sbaglio una canzone di Luride o dei Velvet Underground e quindi bisogna andare a cercare quindi a un giovane che è inesistente che mi chiedesse da cosa parto per ricominciare a conoscere Luride i Velvet Underground e Transformer Berlin forse anche se effettivamente un disco molto molto complicato molto difficile diversi con i Island Baby e sicuramente in New York assolutamente allora noi intanto diamo insomma ancora le coordinate sul libro di Will Hermes Luride di Redi New York Minimum Fax questa è la copertina Carlo grazie per aver insomma accettato il nostro invito per essere stato qui con noi in questo quarto d'ora vogliamo chiudere l'hai citata Perfect Days intanto noi ce l'andiamo ad ascoltare ancora grazie per essere stato qui con noi grazie a te Francesco buona giornata ciao Carlo grazie allora questa davvero un passaggio rapido intorno a Perfect Days